Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e sono qui con 1, 2, 3, 4, 4 pacchetti di evoluzioni etere, non sono quelli di principe giallo, le ho prese, sono andato nel mio hobby store di fiducia, avevano appena aperto un box da mettere appunto nella vendita, quindi era ancora in tonso, e ho preso 4 buste, completamente a caso, quindi 2 da una fila, 2 dall'altra, una iniziale e una verso metà, giusto per, che non vuol dire mai niente in realtà, però speriamo, speriamo, piccola informazione, piccola nota a margine prima di cominciare, anzi no, mentre cominciamo ve la dico. Allora, dato le recenti sfighe pesanti con gli etb, ma anche con stili di lotta, per un po' io penso che porterò, al di là delle teen, che almeno nelle teen c'è sempre la promo, porterò buste sciolte, perché in rapporto prezzo, cazzarola, non pago 60 euro un etb e non trovo nulla, e quindi farò il giro degli hobby store, barra gamestop, barra quello che è, per prendermi le buste singole, che porterò sul canale, e questo perché, onestamente, 120 euro dei due etb mi sono rimasti, ve lo posso garantire, raga, sullo stomaco, perché, ok, ho preso niente, ma strano, eh, strano che comincio così, e, perché, onestamente, eh, aprire parecchi soldi, insomma, 120 euro, è quanto spenderò io a breve, breve, tra mille virgolette, per prendermi diamante e perla, e ho preso due, ok, non devo neanche, magari, fare questi paragoni, perché uno è un gioco di carte, uno è un gioco per Nintendo, ok, si sa, però almeno mi fa i etb, mi costano 60, quindi quanto un gioco per Nintendo Switch, eh, quanto un gioco di fascia medio alta per Xbox o Play 5, no, Play 5 almeno no, perché costano 80 euro, quanto meno garantiscimi qualche drop, cioè, boh, niente, quanto meno garantiscimi qualche drop, cosa che non c'è stata, praticamente, quindi, penso che porterò per parecchio buste singole, almeno lì, se mi va male, dico, ok, ho portato 5, 6 buste, e sono prese 4, perché era un po' di fretta, e ho detto, vabbè, ne porto 4, come se portassi una tin, però, dico, mi va male, ok, era semplicemente 4 buste, cioè, non era l'equivale, anche perché 4 buste sciolte costano meno dell'etb, anche se prendessi 8 buste sciolte, pagherei molto meno dell'etb, perché sono 6 euro a busta, 6 per 8, fa comunque meno di 60, 6 per 6, 36 sono 48 euro, praticamente, 48 euro, sono 8 buste singole, contro 60 nel tb, cioè 12 euro di differenza, non mi cambiano la vita, ma sono 12 euro di differenza, voglio dire, insomma, quindi, penso che, anche perché, se nell'etb fosse garantito un minimo di, allora ti dico, ok, ci può stare, me la rischio, pago quei 12 euro in più, e me la rischio, però, un giù, un plus raro, però, pochissima roba, pochissima roba, però, insomma, così è la vita, quindi, e tra l'altro, il canale sta, siamo a settembre, a novembre, il canale compirà un anno, e, come la sto girando? compirà un anno, e, e quindi, poi, ci, insomma, vi aggiornerò anche sui progetti del, dell'anno 21, del nuovo anno, e, progetti inerenti a, al canale, alle serie, anche agli spacchettamenti, perché ci hanno anche delle informazioni, in tal senso, sugli spacchettamenti, eh, magari non tutte vi piaceranno, ho fatto anche, c'era anche Vigoro, sì, c'era anche Vigoro, dai, eh, Mari, completiamo la linea evolutiva di Slakot, riusciamo a completarla, sono sicuro che se mi impegno con la mia sfortuna, eh, perché, saranno anche, intanto, intanto questa l'ho completata, eh, eh, ci saranno dei, dei cambiamenti, dei cambiamenti, non Flareon, non Flareon, dei cambiamenti, anche sugli spacchettamenti, ma poi, comunque, eh, sentirete, farò anche un video a parte, più avanti, verso novembre, verso fine anno, e, qua, c'era una V, è una V normale, quindi, non full art, non V, non V, basta che non sia Flareon, lo guardo un attimo, io, scusate, ok, l'ho guardato, l'ho guardato, siete curiosi? Eh, eh, avviciniamo, Volcarona V, ok, ok, si chiude bene, lamentarsi ogni tanto funziona, una bella, bella, bellissima, Volcarona è un gran bel po', numero 21 di 203, eccolo qua, vabbè, dai, eh, l'ultima bustina, come se avessi aperto una tin, mi ha dato un drop decente, sono comunque ancora scottato con questa serie, ma, eh, tant'è, lamentarsi non, non serve, anche perché, io sono dell'opinione che lamentarsi di qualcosa non, non migliora la situazione, quindi, come anche disperarsi di qualcosa non migliora la situazione, anzi, le cose fatte sono ormai state fatte, quindi, raga, grazie per avermi seguito, io vi ricordo di commentare, condividere, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo ad un prossimo video, lunedì, con altre buste, mi sa di sì, a sto punto le buste singole potrebbero darmi più di una sorpresa, ciao ragazzi!